E' arrivato il momento di dire basta, basta al giochino che tiene sotto i precari e sopra una classe politica che a suoni di hashtag e like e post tuonanti pensa di combattere il precariato. Così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che dopo giorni di silenzio torna ad attaccare direttamente il governatore della campagna Vincenzo De Luca facendo sua la battaglia dei navigator, i 471 vincitori di concorso che restano in sospeso dopo che la regione si è rifiutata di firmare la convenzione con l'Ampal. De Luca aveva chiesto la stabilizzazione di tutti i lavoratori dei centri per l'impiego, con il ministro Di Maio è in corso una trattativa, ma il sindaco De Magistris si incalza, non si può pensare di contrastare un fenomeno come il lavoro precario negando che esista e che sia parte di un sistema a marcio di politiche pubbliche, industriali e di sviluppo. Negare la contrattualizzazione ai navigator è montare un capriccio politico su una montagna di sabbia, di questo si tratta, dice il sindaco, si tratta di un grande errore mediatico, i navigator sono pagati e gestiti da Ampal Servizi, sono pagati e gestiti per un pezzo del reddito di cittadinanza, niente a che vedere con il potenziamento dei centri per l'impiego, per quello ci sono abbondanti risorse che stanno per essere ripartite tra le regioni. Il sindaco ancora chiarisce, su 471 vincitori di un contratto di collaborazione, caro governatore, non c'è partita politica, c'è solo da fare un patto serio tra persone corrette e dare nel tempo la possibilità a queste persone di continuare a lavorare.